Il nostro omaggio a Pasolini, un omaggio che abbiamo detto essere di tipo generale, legato anche al particolare della nostra terra. Allora, avendo già in passato inaugurato questo legame profondo tra l'Augusta e San Matteo, abbiamo cercato un miglioratore, quindi Francesca Toscano, il professor Pulzoni e lo stesso Gabriele, abbiamo cercato una chiave che legasse Pasolini a Capitini e quindi a questa biblioteca. E' stata trovata questa ulteriore possibilità di lettura attraverso i testi posseduti da Capitini e quindi ciò che prima Gabriele spiegava, questo legame che va dal 47 al 68 attraverso i testi di Capitini e che poi si arricchisce in realtà di altre peculiarità come questa, che mi è piaciuta tantissimo, questa bella cartonina proveniente da Matera, delle riprese del Vangelo secondo Matteo. Quindi, voglio dire, siamo riusciti ulteriormente a legare le nostre biblioteche in una mostra che in realtà è unica e che poi a sua volta avrà un'ulteriore espansione attraverso il calendario di incontri che abbiamo programmato e che verrà inaugurato il mercoledì prossimo a 17.30 alla sala dei notari attraverso la conferenza Francesca Toscano che ringrazio fin da ora e a questa conferenza vi do appuntamento proprio perché il concetto che è dietro a questo omaggio sia duplice nel senso nazionale e territoriale quindi particolare, generale e particolare, ma poi c'è anche la forma mostra e la forma conferenza per l'approfondimento sulla figura di Pasolini e su quanto è rappresentato in maniera così versatili per la nostra cultura. Quindi cerchiamo di approfondirne le realità in tanti mani. Poi ogni tanto andranno fuori anche cose ulteriori, grazie a San Dannegrin perché abbiamo avuto la mostra in Augusta già è cresciuta, abbiamo avuto l'opera di Stefano Chiacchera, abbiamo venuta fuori la foto con i Ciani quindi insomma diventa anche un motivo per tenere fuori altri contenuti quindi è una mostra non solo così soddivisa in due sedi, ma una mostra che sono convinto che quando arriverà al suo termine sarà ancora più ricca di come partita e questa è una formula che a me piace e che diventa coinvolgente per la città. Riccino a questa bella immagina che è totalmente originale, questa è una delle perle di questa mostra. Ma dunque, che dire, questa mostra deve essere assolutamente collegata a quella dell'Augusta cioè il percorso è unico, chi parte dall'Augusta deve arrivare qua, viceversa forse no perché il percorso che abbiamo scelto con Carlo, perché comunque ci abbiamo ragionato su questa cosa, è alla fine il percorso fondamentale per conoscere Pasolini cioè le sue riflessioni sulla contemporaneità, è la sua critica radicale al modello dello sviluppo ed è questo il centro di tutta la sua opera e addirittura appunto dagli anni 40 che si comincia a capire che quello sarà il centro dell'opera di Pasolini a tutti i livelli, a livello poetico, narrativo, cinematografico, teatrale, pittorico e naturalmente di impegno intellettuale in prima linea. Quindi il percorso che abbiamo scelto dentro l'Augusta è proprio questo cioè come nasce e si sviluppa il pensiero di Pasolini, la critica di Pasolini al modello neocapitalista che per lui è la nuova preistoria e all'interno chiaramente di questo discorso ci sono molte tematiche che vanno affrontate e approfondite attraverso Pasolini. C'è la questione femminile, c'è la questione della pace e in questo chiaramente Capitini è fratello di Pasolini. Pasolini addirittura proprio nell'ultima parte della mostra c'è la questione ambientale Pasolini e Pasolini quando dice che bisogna lottare per l'ambiente perché la nuova preistoria del capitalista sta distruggendo insieme la storia, l'umanità e l'ambiente dice, porta come esempio della lotta ai suoi amici, a Bassani e ai suoi amici d'Italia Nostra, noi dobbiamo lottare come grandi, come Danilo Dolci cioè fa dei nomi molto chiari, molto evidenti all'interno dell'ambiente del pacifismo storico italiano e perché questo? Perché lui dice che bisogna fare i scioperi dell'affaro, bisogna fare qualsiasi tipo di protesta per difendere la natura, per difendere la nostra storia. Lui dice, quando io vedo un casolare dell'Azio che si distrugge, un casolare contadino, io dico devo trasformare la mia vita e fare un percorso come quello di Gandhi per salvare queste cose, perché sono la nostra identità, sono il nostro futuro in realtà cioè quando lui dice che sono una forza del passato, non sta predicando qualcosa di nostalgico verso un arcaismo mitico, no, lui sta dicendo, questo lo dice in maniera meravigliosa Gianni Scalia che non è stato solo un suo grande amico, chiaramente collaboratore all'interno di Officina e con Gianni Scalia stava con il più presente il professor Piero Pierisalvene progettando una nuova rivista, ma purtroppo fu ucciso prima che questa nuova rivista uscesse lui dice, quando Pasolini dice che sono una forza del passato e dice che bisogna tornare indietro, non sta facendo un discorso conservatore, sta facendo un discorso relativo invece al progresso cioè se noi vogliamo progredire, umanamente progredire, dobbiamo dire stop all'idea che questo tipo di sviluppo coincida ideologicamente con il progresso, questo tipo di sviluppo ci sta portando indietro, alla distruzione. Infatti dice che lo sviluppo non è progresso, non è necessariamente progresso. Non è progresso, lui distingue continuamente l'idea di sviluppo e l'idea di progresso e questi articoli che abbiamo selezionato qua, purtroppo non siamo riusciti a beccarli tutti, dicono proprio questo relativamente all'ambiente, quando lui parla delle lucciole, il famosissimo articolo chiamato appunto l'articolo delle lucciole nei scritti corzali, quando vengono raccolti tutti i suoi scritti di impegno politico sui giornali. Quando parla della scomparsa delle lucciole non parla semplicemente in termini metaforici, lui parla proprio di una realtà, cioè qui stiamo distruggendo la bellezza che lui dice antica, di questa terra, della nostra terra, la stiamo distruggendo per cosa? Per creare dei bisogni che non esistono, falsi, artificiosi, che ci portano a distruggere e autodistruggere dell'illusione di essere tutti dei borghesi. Alla fine è questo quello che noi vogliamo essere, ma questo ci rende brutti, ci rende brutti perché ci spinge appunto alla distruzione che diventa autodistruzione. In uno di questi articoli appunto mi dice proprio questo, cioè questo modello di sviluppo, la nuova preistoria sta distruggendo i germi della storia. Stiamo precipitando verso l'autodistruzione e penso che mai come in questi giorni pensare a questo sia veramente importante, mai come in questi giorni. E quindi questo percorso che abbiamo scelto per le mostre andrebbe molto meditato perché non è semplicemente una celebrazione di un enorme intellettuale, di un enorme poeta, perché va detto innanzitutto che Pasolini è un poeta, lui stesso voleva che si dicesse questo di sé e molto giustamente Moravia, l'adorazione funebre, al generale di Pasolini l'ha detto in maniera chiara. Abbiamo perso innanzitutto un poeta, perché Pasolini era un poeta, in qualsiasi cosa facesse e anche quando parlava come intellettuale impegnato diceva guardate che quello che io dico lo dico anche come poeta, perché per me la realtà è sacra. Io non sono un credente, sono ateo, ma tutto ciò che io vedo è sacro, perché è unico. Noi tutti in questo momento siamo sacri, perché siamo unici, non abbiamo un'altra possibilità, se proprio appunto non siamo neanche credenti. E quindi non è semplicemente, ripeto queste due mostri, non sono semplicemente una celebrazione di un'enorme poeta e di un'enorme intellettuale, ma sono un momento, come si diceva ai vecchi tempi, di riflessione. Davvero, cioè leggere Pasolini, leggendo esattamente quello che lui ha scritto, senza retro pensieri, ci serve a capire perfettamente quello che noi stiamo vivendo, ma non perché lui fosse un profeta come si vuol dire, perché era un lettore molto profondo, attento e acuto del suo tempo. E noi siamo l'estrema evoluzione, purtroppo, di quello che lui già leggeva a partire, ripeto, dagli anni 40. Infatti è giustissimo che ci siano dei testi degli anni 40. Noi pure per la Augusta abbiamo tentato di averli, ma purtroppo non ci siamo riusciti, perché chiaramente non è facile ormai riuscire a trovare tante riviste, purtroppo. Però, ripeto, sarebbe bello che chi visita queste mostre ne uscisse con un pensiero nuovo, come dopo Berletto Capitini, come dopo Berletto Penna, che non a caso sono i due massimi poeti dell'Umbria del Novecento, ma insieme sono veramente due enormi, anche intellettuali, in maniera diversissima, che hanno fatto della pace e della giustizia reale, concreta, vitale, come l'avrebbe detto Pasolini, il centro della loro esistenza. Vitaccio. Diamo appuntamento al 16, però l'idea dei miei Pasolini mi piace molto, perché possiamo rilanciare, cioè le persone che magari hanno cose, curiosità nei cassetti, noi siamo ben lieti di ospitarle, qui in agosto, eccetera, è un'occasione che veramente una mostra che a caso muore sia anche partecipata, non solo come pubblico, ma come concorso alla mostra stessa. Bisogna chiedere per esempio sempre di più anche alla Procidrate, perché lì ancora ci sono tanti testimoni proprio della presenza di Pasolini e ormai secoli fa per l'Accademia Propenziana ad Assisi fece una conferenza su Pasolini ad Assisi e per il pubblico c'era una monaca di una, neanche più mi ricordo, ma alla cittadella Lusanne, di un monastero piccolissimo che sta vicino alla Procidrate e che si ricordava di Pasolini, quando appunto andava da Assisi, che andava praticamente a meditare dentro la chiesetta di questo convento. Lei si ricordava di Pasolini, che era lì seduto in chiesa, in silenzio, da solo, veramente, stava lì per un po' e poi si andava. Quindi ci sono delle testimonianze bellissime su Pasolini, veramente bellissime da raccogliere, in Umbria, perché lui era innamoratissimo dell'Umbria. Per lui Penna era il più grande poeta del Novecento e non si discuteva appunto, cioè non se ne poteva neanche discutere questa cosa. Aveva due santi, su due santi lui avrebbe voluto fare un film, che poi non è riuscito a fare. Uno era San Paolo, l'altro era San Francesco. E comunque c'è un modo, in qualche modo, di parlare di Francesco d'Assisi. E poi Vangelo, che è senza dubbio uno dei vertici del suo cinema, è nato ad Assisi, è nato dentro la società cristiana, si è sviluppato nel suo progetto. Pasolini dal 62 al 64 è stato continuamente. Il 22 giugno avremo invece Moscati con Pasolini e Capitini, quindi diciamo San Matteo sarà ottimamente rappresentato come sede. Fermo restando che l'idea iniziale di San Matteo, lasciare il fatto che in questa sede c'è anche la Scuola d'Ecologia, perché avremo anche delle conferenze tra Pasolini, Potere e Ecologia, che ci faranno delle persone per riuscibili alla vista, sicuramente. L'appuntamento è per mercoledì 17.30 alla Sala di Natale. Per parlare di Benna e Pasolini.